L'Italia è piena di calabresi che sono una grande ricchezza italiana e mondiale, scienziati, imprenditori, lavoratori, giovani, ma troppo spesso se ne vanno perché qua non vedono il futuro. Callipo serve per realizzare un grande obiettivo, fare in modo che i giovani calabresi non sono più costretti ad andarsi nella Calabria. Questa è una terra meravigliosa, ci sono tanti e tanti che combattono e ora bisogna raggiungere questo obiettivo e questo lo si fa con il lavoro, con lo sviluppo e con amministratori che interpretano questo sogno e Callipo lo fa. Sono tre liste di persone libere e Callipo è una persona che risponde ai suoi cittadini e non è la portavoce di interessi che con la Calabria non c'entrano niente e che hanno più il cuore sui giochi politici romani e quindi difendete la Calabria perché oggi la battaglia è esattamente quella di difendere il destino di questa terra dalle invasioni che potrebbero umiliare ancora una volta questo territorio. È una bella battaglia perché il cuore è la difesa della Calabria. È una presenza importantissima perché dimostra l'attenzione verso la Calabria ma non è solamente una questione per il partito o una questione elettorale e io ho capito che il segretario Zingaretti tiene molto alla Calabria, ha capito di questa squadra che abbiamo formato che è una squadra che può veramente realizzare qualcosa di positivo per i calabresi che è una squadra che veramente può determinare e rialzarsi da parte della Calabria, dell'economia e di tutto quello che ne consegue, compreso quella di creazione di nuovi posti di lavoro che è l'obiettivo principale per qualsiasi altro settore che si parli.